Non è la vittoria del Partito Democratico, ma è la vittoria della capacità che ha avuto il Partito Democratico attraverso Roberto Pertichini e Margherita Scarpellini di creare delle coalizioni e delle liste che sono legate al territorio più che ai partiti. Questa è una cosa importante che premia un nuovo tipo di ragionamento che il Partito Democratico sta portando avanti nei territori, che è quello di aprirsi alle comunità, alle liste locali, alle altre formazioni politiche, cioè fare delle coalizioni che siano rappresentative dei territori. Commenta così i risultati dell'ultima tornata elettorale nell'Arettino il segretario provinciale del Partito Democratico Massimiliano Dindalini. Le ultime elezioni comunali si sono infatti concluse con una doppia vittoria per il PD. Margherita Scarpellini si è infatti riconfermata per il secondo quinquennio sindaco di Monte San Savino con il 37,5% dei voti. A Montemignaio invece Roberto Pertichini ha vinto con una percentuale dell'83,3% dei voti a favore. Quando un sindaco uscente si ripropone indubbiamente è ancora più stringente la vittoria perché uno valuta anche che si tratta di una valutazione sull'operato e sul sindaco stesso. Quale sarà la parola chiave nei prossimi cinque anni? Quello soprattutto dell'ulteriore vicinanza ai cittadini, di continuare col concetto della solidarietà, quindi un occhio particolare al sociale senza dimenticare ovviamente lo sviluppo, lo sviluppo economico, lo sviluppo culturale turistico e un occhio di attenzione alle piccole e medie imprese.